Da Milano a Pechino, Confartigianato porta la moda artigiana sui mercati internazionali. A Expo 2015 i campioni del cibo made in Italy, vincitori del concorso bandito da Confartigianato. Il terremoto Volkswagen fa tremare i fornitori italiani. Il 31 ottobre scade il termine per le iscrizioni a Sanarti, la sanità integrativa degli artigiani. Non sono una comparsa, gli artigiani veneziani contro il turismo di massa. Buongiorno e bentornati all'appuntamento settimanale con il Tg di Confartigianato. Dalle passerelle milanesi ai riflettori della capitale cinese. Con il progetto Su Misura Italia, Confartigianato punta sui nuovi talenti della nostra moda artigiana e sulle potenzialità dei mercati asiatici. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Lorenza Manessi. La moda italiana continua a dettare legge sulle passerelle di tutto il mondo e macina ottimi risultati sui mercati internazionali. Merito anche delle migliaia di imprese artigiane che la rendono unica e apprezzata nel mondo. E proprio a questo settore leader dell'artigianato, Confartigianato dedica il progetto Su Misura Italia, un'iniziativa di respiro internazionale che è partita nei giorni scorsi dalle passerelle milanesi della settimana della moda organizzata a Italian Makers Village, il foriexpo di Confartigianato, e arriverà a fine ottobre a Pechino. Sfilati di eccellenze artigiane, incontri con buyers e giornalisti provenienti da tutta Europa e dalla Cina, eventi con le firme più prestigiosi del Grammar Made in Italy hanno portato alla ribalta internazionale della città di Expo 2015 la creatività e la qualità dell'artigianato italiano. Evento Clou il 24 settembre a Palazzo Isimbardi con la premiazione di 15 giovani talenti della moda, allievi delle scuole italiane di Sartoria e Design che hanno vinto il concorso Inbastire un sogno, cucire un'idea. Giunto quest'anno, la settima edizione è organizzato da Confartigianato insieme con il salone orafo Oro Arezzo. Proprio grazie al progetto Su Misura Italia, le nuove leve della Sartoria italiana avranno l'opportunità di far sfilare i loro modelli a Pechino durante la Fashion Week in programma dal 25 ottobre al 2 novembre. Un mercato, quello cinese, che nonostante le turbulenze delle ultime settimane mantiene grandi potenzialità per le nostre imprese. Basti dire che quasi il 17% dell'export italiano in Cina è costituito da tessile e abbigliamento. Confartigianato punta quindi a favorire la diffusione della nostra produzione artigiana nel paese asiatico, in particolare nella città di Gimo, con la creazione di una base operativa per la vendita dei prodotti e uno spazio dedicato alla creazione di abiti su misura. Il progetto di Confartigianato, che conta sul sostegno di ICI Agenzia, prevede anche incontri B2B con buyers cinesi e la formazione di mano d'opera locale. Noi stiamo lavorando già da tempo nell'internazionalizzazione per cercare di avvicinare le piccole imprese, e Confartigianato ce ne ha moltissime, a sapersi internazionalizzare, far crescere le nostre piccole imprese nel saper esportare i loro prodotti all'estero. Le prospettive sono buone, l'importante è che le imprese sappiano capire come potessi avvicinare ai mercati internazionali, cercando di non abbandonare completamente il mercato italiano. Insomma, Confartigianato offre alle piccole imprese l'opportunità di cavalcare l'onda della ripresa economica e ai giovani l'opportunità di realizzare un sogno imprenditoriale. Credere in questo mondo, credere nell'artigianato, il futuro sta nell'artigianato, soprattutto nel settore del made in Italy. Restiamo in tema di eccellenze made in Italy. In questo caso si tratta delle prelibatezze create dalle aziende artigiane che hanno partecipato al concorso Nutrire il futuro, energie dalla tradizione, promosso da Confartigianato per celebrare le migliori produzioni enogastronomiche in occasione di Expo 2015. I 26 vincitori del concorso esporranno i loro prodotti dal 9 al 15 ottobre a Padiglione Italia, nello spazio riservato a Confartigianato. Un'occasione unica e prestigiosa, quella offerta dalla Confederazione agli imprenditori associati che potranno mostrare i tesori del gusto made in Italy alle migliaia di visitatori dell'esposizione universale. Veniamo allo scandalo Volkswagen che continua ad allargarsi e ora coinvolge anche l'Europa. In primo piano c'è la tutela della salute dei cittadini, ma preoccupa anche l'impatto sui fornitori italiani del gruppo. Ce ne parla Ivan de Menego. È uno scandalo così grave che toglie la voglia di fare facile ironia sulla Germania che da prima della classe si è ritrovata dall'oggi al domani dietro alla lavagna con l'accusa di aver barato sulle emissioni delle auto prodotte proprio dall'azienda bandiera dell'affidabilità teutonica. Mentre lo scandalo del software messo a punto da Volkswagen per ingannare i controllori americani si allarga dagli Stati Uniti al resto del mondo, Europa in testa, sembra o mai chiaro che la vicenda avrà ripercussioni anche sulle aziende fornitrici del colosso tedesco che se riuscirà a sopravvivere al terremoto è solo perché alle spalle incredibilmente robuste. In soli due giorni il gruppo ha bruciato in borsa un terzo della capitalizzazione. L'utile del 2014 è stato spazzato via. Multimiliardari e risarcimenti che con ogni probabilità verranno inflitti dall'autorità americane pesano come macigni sul futuro del gruppo tedesco che ha accantonato 6,5 miliardi per far fronte alle conseguenze immediate del dieselgate. In Italia c'è forte preoccupazione per le possibili ricadute negative sulla produzione delle aziende di componentistica fornitrice di Volkswagen, una filiera in cui operano 2.124 imprese di cui 614 pari al 28,9% sono imprese artigiane che danno lavoro a 3.013 addetti. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confartigianato la Germania è il primo mercato di destinazione del settore con esportazioni che negli ultimi 12 mesi hanno raggiunto i 2.665 milioni pari al 22,7% dell'export del settore che nel complesso vale quasi 12 miliardi. Se a questo si aggiunge che Volkswagen impiega sul nostro territorio 900 persone che a 2.000 tra concessionari e punti vendita con circa 25.000 addetti e che attraverso le controllate Audi, Lamborghini, Ducati e ItalDesign da lavoro a ulteriori 3.000 lavoratori si capisce che l'Italia ha molto da perdere da una debacle di Volkswagen. Il ministro dei Trasporti, Graziano Del Rio ha annunciato il via una campagna di controlli a campione su tutti i modelli del marchio per capire se gli autoveicoli venduti nel nostro paese siano più inquinanti di quanto previsto dalle normative. L'invita ad agire rapidamente per restituire trasparenza al settore è arrivato dal ministro per lo sviluppo economico Federica Guidi. Ricordiamo che si tratta di un grande gruppo industriale per la Germania e anche per l'Italia ha sottolineato il ministro che ha aggiunto è fondamentale che sia fatta chiarezza anche per verificare quali possono essere le ripercussioni sul sistema produttivo del nostro paese. C'è tempo fino al 31 ottobre per iscriversi a Sanarti il fondo di assistenza sanitaria integrativa dell'artigianato. Entro la fine del mese prossimo i titolari d'impresa, i loro collaboratori e le loro famiglie e i familiari dei dipendenti potranno aderire a Sanarti e dal 1 gennaio 2016 utilizzare tutte le prestazioni del fondo costituito da Confartigianato dalle altre confederazioni artigiane e dai sindacati dei lavoratori e già operativo da due anni per i dipendenti delle imprese. Sanarti è stato creato per colmare le carenze della sanità pubblica e offrire risposte efficaci e su misura per la domanda di salute degli imprenditori e dei loro dipendenti. Il successo del fondo è confermato dalla crescita del numero dei soci. Solo nel 2014 hanno aderito 500.000 dipendenti e più di 1.000 soggetti fra i titolari di imprese che hanno iniziato a conoscere e ad apprezzare le prestazioni di Sanarti. Chiudiamo con una notizia che arriva da Venezia dove l'associazione ha lanciato una campagna di comunicazione per denunciare la trasformazione della Serenissima in una città fantasma con conseguenze devastanti per il tessuto imprenditoriale lagunare. I dettagli nel servizio di Fabrizio Cassieri. Non sono una comparsa io sono Venezia è questo lo slogan scelto da Confartigianato Venezia per una campagna di comunicazione che vuole denunciare la trasformazione della Serenissima negli ultimi anni da città unica al mondo ad un centro commerciale sommerso dal turismo di massa che si sta svuotando di residenti e piccoli imprenditori. Oggi Venezia è una città omologata uguale a tante altre città del mondo con una offerta commerciale rivolta al basso come rivolta al basso appunto è la domanda di questo turismo. Negli ultimi 20 anni Venezia ha perso 270 attività artigianali tradizionali. Oggi accoglie più di 20 milioni di turisti l'anno ma non supera 56 mila abitanti. In media fanno un turista ogni 365 veneziani 20 volte Ibiza 6 volte la capitale mondiale del divertimento Las Vegas. Numeri insopportabili per una città che ha caratteristiche uniche al mondo e che oggi rischia di perdere la sua unicità per lasciare spazio al turismo globale e alla desertificazione del centro storico. È un problema che bisogna affrontare con un ventaglio diciamo di soluzioni. Noi ne proponiamo alcune. Il primo aspetto è quello di rilanciare la residenzialità. una città senza più residenti è una città che si impoverisce il tessuto socio-economico diciamo di fatto si impoverisce sempre più e quello che è successo e sta succedendo a Venezia. Venezia ormai è una città di seconde case di alberghi pensioni bed and breakfast e anche le attività commerciali e anche quelle artigianali per la grande maggioranza sono gestite da persone che non abitano e non vivono a Venezia. Poi c'è la tematica specifica del controllo dei flussi turistici che secondo noi si fa attraverso un sistema che consenta di stabilire quale è il numero di turisti che la città può accettare fisicamente perché esiste proprio un problema fisico e limitare gli accessi a quel numero. La campagna di comunicazione promossa da Confartigianato Venezia punta su cinque scatti in bianco e nero che ritraggono altrettanti imprenditori associati. L'obiettivo è rilanciare l'orgoglio del tessuto imprenditoriale veneziano fatti a due artigiani e commercianti di lavorazioni tradizionali che si tramandano in laguna da secoli. Sono dei testimoni che lanciano un messaggio di appartenenza all'organizzazione di fedeltà in un certo qual modo all'organizzazione ma lanciano anche un messaggio profondo forte di amore nei confronti della città e dicono noi non siamo delle comparse ma siamo la gente vera che vive e opera e lavora in città. Attenzione perché senza la gente vera Venezia diventa un parco a tema rovereto Trento 2 ottobre da De Pero al Digital Marketing convegno nazionale organizzato da Confartigianato Comunicazione In chiusura come sempre è il momento di vedere insieme le rilevazioni dell'ufficio studi di Confartigianato vediamo che cosa hanno scoperto questa settimana 1,9 sono i miliardi di euro investiti ogni anno dagli imprenditori artigiani per formare i nuovi assunti bene è tutto l'appuntamento come sempre è per lunedì prossimo alla stessa ora sul nostro sito e sul nostro canale YouTube buona settimana e buon lavoro